Grazie alla Talent Harbour i nostri studenti hanno la possibilità di entrare in contatto con professionisti del mondo del lavoro, conoscere i percorsi di carriera all'interno dell'azienda e svolgere colloqui di selezione. Talent Harbour è un'iniziativa fondamentale perché è sempre più importante che le università vadano incontro al mondo del lavoro per creare delle professionalità capaci di interagire nel più breve tempo possibile con le complessità che si trovano ad affrontare. I actually found Talent Harbour a very great opportunity for young students, young designers. It was a big chance for me to talk to the big brands, to their groups, for example like caring group that represent all the top brands I would like to work for in future. It was a great opportunity to ask any question I wanted to. È stato molto interessante ascoltare le loro testimonianze, ma soprattutto ascoltare come, partendo da uno stage, poi loro siano cresciuti professionalmente. Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi che si sono appena laureati e iniziano ad approcciarsi al mondo del lavoro è sicuramente quello di tenere la mentalità aperta. Non si smette di imparare una volta usciti dall'università, si continua sempre a imparare nel corso di tutta la propria carriera. Io credo che ognuno di noi debba trovare la realtà giusta per lui. La realtà in cui sta bene, la realtà che rispecchia i suoi valori, la realtà che gli permette di lavorare nel modo in cui gli piace lavorare. È importante però saper ascoltare, saper accettare anche i feedback degli altri e quindi continuare sempre a crescere. Grazie per la visione!